Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. È appena terminata la partita allo stadio Grande Torino e c'è stato effettivamente a mio avviso un grande Torino. Io ho visto le prime due partite del Toro, l'ho visto contro il Milan a San Siro, l'ho visto quest'oggi contro la Dea, aveva due partite molto difficili e ha fatto una gran bella figura. L'allenatore Vanoli sta facendo, a mio avviso, vedere tante cose interessanti, tante cose belle e il Toro va via con quattro punti da queste due giornate di campionato e con il Milan il Torino ha sprecato perché si è fatta recuperare negli ultimi minuti. Anche quest'oggi ha rischiato clamorosamente col caccio di rigore Emilinkovic Savic, è stato strepitoso a dire di no a Pasalic. Però, ragazzi, come sta giocando il Toro? Come sta giocando il Toro? Oggi Carnesecchi è stato impegnato, ma è una squadra che gioca veramente bene. Mi piace tanto quando fanno quegli scambi, quegli inserimenti veloci, quei tocchi di palla veloci. Adam, buonissima partita la sua. Manca Vlasic a questa squadra, che è un giocatore che, a mio avviso, può assolutamente aggiungere qualità, gol, assist. È un giocatore che, sapete, a me piace. Però, veramente, vedere giocare il Torino in questo momento è un piacere. Sinceramente lo trovo un Torino superiore a quello visto con Koyuric. Avesse fatto gol Pasalic avrebbe avuto molto di cui rammaricarsi il Toro, perché con la partita che ha fatto sarebbe stato buttare via dei punti. Questo non perché la Dea abbia fatto male, ci mancherebbe, ma per il valore delle tue squadre e per quello che proprio ho visto in campo dal punto di vista qualitativo. Ho visto anche dal punto di vista quantitativo lo stesso Zapata. Zapata che addirittura torna in difesa a aiutare la squadra, si prende il fallo, protegge col fisico. Lo sto vedendo molto bene Duvan, che tra l'altro si è visto togliere un gol di fatto sulla linea di porta. Però, tutti stanno facendo assolutamente bene Ricci. Secondo me con questo allenatore Ricci può fare un salto di qualità. Lazaro, sia col Milan sia oggi, aveva fatto bene. Poi sì, nel finale ha rischiato un po' di rovinare la sua prestazione. Però sta facendo bene, sta facendo bene tutto il toro. Quindi gli vanno fatti assolutamente i complimenti. Tra l'altro, quest'oggi si giocava. Io ho un amico che ti fa toro, mi ha anche mandato dei video. C'è stata una protesta nei confronti di Cairo. Anche durante la partita si sentivano i cori. Ovviamente non la carico, perché ci sono troppe parolacce e insulti. Però ecco, non carico quel video che mi ha mandato il mio amico. Però, se giocate in un clima quasi, tra virgolette, surreale. E in un clima così, comunque sia, anche per i giocatori stessi andare in campo, non è facile in una partita importante e difficile come questa contro la dea del Gasp. Eppure hanno fatto bene. E ragazzi, io vi faccio notare una cosa. Era passato in vantaggio l'Atalanta. Quindi ci poteva anche essere un contraccolpo psicologico dopo i due gol presi dal Milan nella scorsa giornata. andare subito sotto così, quando comunque stavi facendo vedere cose interessanti. Aggiungo, gran bel gol di Reteghi, che sta timbrando e mi fa piacere per lui. Però ecco, guardate subito la risposta di carattere nel giro di pochi minuti. Subito, uno a uno. E anche lì, un giocatore come Ilic, che era un fedelissimo di Juric. Però anche lui, secondo me, è uno di quei giocatori che può e deve fare quel salto di qualità. Se queste sono le premesse, se queste sono le premesse, ragazzi, ve lo dico proprio sinceramente, per me il Toro quest'anno può togliersse tante soddisfazioni. Lo dico da Juventino, ma vi ho sempre detto, io non ho mai sentito sinceramente questa rivalità con il Toro. Sarà perché non sono di Torino, ma ho sempre avuto rispetto per questa squadra. Però ecco, io credo che il Toro possa togliersi delle soddisfazioni, perché li vedo bene, li vedo proprio bene in campo, li vedo bene fisicamente. Il Toro è sempre stata una squadra cui è mancata di fatto una cosa, che è la costanza. Se quest'anno dovesse riuscire a avere più continuità, veramente potrebbe essere l'anno in cui si può togliere delle soddisfazioni importanti. E che dire sulla Dea? Io mi aspetto di più. Mi aspetto di più da Samarzic, mi aspetto di più dallo stesso Zagnolo, anche se qualcosina di interessante l'ha fatta vedere. Bene Retteghi, cosa gli si vuol dire? Sta continuando a timbrare. Mi aspetto però qualcosa in più. Più cinismo sottoporta, più cattiveria, più attenzione difensiva. Ragazzi, il gol di Illich, comunque sia, bella la giocata del Toro. Però una squadra come l'Atalanta, una squadra che comunque ha vinto l'Europa League, una squadra di ormai caratura europea, non può prendere, non si può prendere un gol così. Quindi, ecco, sono convinto che questa partita aiuterà a crescere la Dea. Sono assolutamente sicuro di questo, però deve fare più attenzione. E poi, ragazzi, anche la situazione con Miners, tutto quel discorso lì, e secondo me comunque, vuoi o non vuoi, un po' nell'ambiente, un po' influisce. Perché comunque sia, ti manca in campo, ti manca, e secondo me anche i compagni, cioè, non sanno se lo riavranno, se non lo riavranno, non sanno com'è la situazione. Secondo me tutto, tutto fa, tutto fa, ed è un peccato. Ed è veramente un peccato. Comunque, occhio a Zaniolo, perché secondo me Zaniolo, con il gas può fare, può fare bene. Che dire, ho preferito parlare un po' più del Toro, perché voglio che risalti quello che sta facendo questo allenatore, voglio che venga fuori e si sottolinei la partita di oggi, ma anche la partita contro il Milan. Perché per me, contro il Milan, il Toro ha buttato via due punti, eh. Quindi, grande Torino, sta giocando veramente bene, veramente bene. È un piacere in questo momento vedere giocare il Toro. Quando riescono a partire in campo aperto, come riescono a fare gli scambi. Tanta roba, tanta, tanta roba. Fatemi sapere la vostra. Complimenti ai miei cugini e quattro punti in saccoccia nelle prime due giornate. Ripeto, contro Mila e contro Atalanta. Chi l'avrebbe mai detto? Un forte abbraccio. Iscrivetevi al canale e diffondete il verbo. Quest'anno il derby sarà veramente duro. Di ande. Per il 영 Papa. Ripeto, anni e indangeria gli scambi in樋era le ritorni. Di atta maggiore. Di. Di.